E il tempo di Quaresima è anche il tempo dei fioretti. Allora nel prossimo servizio di Luca Ciciriello ascoltiamo qual è lo spunto che l'Arcivescovo di Lecce, Monsignor Michele Seccia, dà ai suoi diocesani. Prudenza e buonsenso nell'uso dei social e delle chat perché secondo Monsignor Michele Seccia, Arcivescovo di Lecce, di fake news sul coronavirus ne circolano troppe. E' proprio questa la sua raccomandazione per la Quaresima 2020, un fruttuoso digiuno quaresimale. Bisogna limitare l'uso del telefono per navigare in internet alla ricerca di notizie di Chiara Seccia, fidiamoci solo dei canali istituzionali e non di chi alimenta la confusione. Per il mercoledì delle ceneri che segna l'inizio della Quaresima, l'Arcivescovo ha pensato di affidare alcune riflessioni a Portavecce, non un messaggio. Innanzitutto per non aggiungere altre parole ai tanto attesi pensieri che Papa Francesco ogni anno dona alla Chiesa Universale per questo cammino di avvicinamento ai giorni del mistero pasquale. E poi perché ha già offerto qualche spunto utile che accompagni i fedeli nella Quaresima nel messaggio di annuncio della prima visita pastorale a tutte le comunità della Diocesi. Prego ogni giorno in particolare per gli ammalati, per gli anziani, per chi lavora negli ospedali e nelle case di cura, ma anche per i salentini che sono al nord per ragioni di lavoro e per i ragazzi che studiano nelle università delle regioni più colpite, scrive il pastore. Con alcuni di loro sono spesso in contatto telefonico non solo per informarmi della loro salute fisica e psichica, ma soprattutto per incoraggiarli e per trasmettere loro fiducia e serenità. Ai sacerdoti e ai diaconi, in modo speciale, affido il compito di sostenere con sapienza evangelica le persone più fragili, in particolar modo quelle che si lasciano più facilmente prendere dalla paura. E se il compito vi risulterà più agevole, potrete adottare piccole precauzioni che già altri miei confratelli vescovi in Italia, da nord a sud, hanno suggerito a parroci e cappellani. Come ad esempio, svuotare le acque a santiere, evitare di bagnarsi gli occhi con l'acqua benedetta anche in occasione dell'imposizione delle ceneri, evitare il segno della pace durante la messa, distribuire la comunione eucaristica sulla mano, secondo le norme liturgiche vigenti, evitare la comunione sotto le due specie, per quanto possibile, inoltre, evitare, come in uso in molte parrocchie, le condoglianze al termine dei funerali dei trigesimi e degli anniversari. E voi, fratelli miei nel sacramento dell'ordine sacro, come anche i ministri della comunione, abbiate cura di lavare spesso e bene le mani. Poi la conclusione. Sarà una quaresima particolare. Pregheremo di più affinché il Signore doni pazienza e forza d'animo a chi sta lottando contro il rischio del contagio.